Prima di procedere iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Gemma Galgani, la nota d'ama turinese, sarà ancora protagonista nella prossima edizione di Uomini e Donne, continuando la sua ricerca dell'amore dopo 14 anni dalla prima apparizione nel parterre. Nonostante non abbia ancora trovato l'anima gemella, sembra che non manchino frequentazioni passionali, specialmente durante l'estate quando i sentimenti si fanno più frizzanti. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Mio, Gemma avrebbe ritrovato il sorriso negli ultimi mesi e starebbe trascorrendo l'estate in compagnia di un giovane uomo, il cui nome rimane ancora un mistero. A dare un indizio sulle nuove emozioni nella sua vita, la dama avrebbe lasciato un enigmatico like sotto un post della rivista che ha riportato la notizia, come rivelato anche da Novella 2000. La precedente edizione del programma non si è conclusa nel migliore dei modi per Gemma, che si è trovata coinvolta in una discussione animata con Elio Serbo. L'ha accusato di aver oltrepassato i limiti durante una serata insieme, ma estrevolendo le sue mani oltre il dovuto. Questa situazione ha portato alla delusione per Gemma, che ha dovuto affrontare un'altra sfida nei suoi tentativi di trovare l'amore. Nonostante le difficoltà, Gemma sembra determinata a non perdere la speranza e a continuare a cercare l'amore, sia nella prossima edizione di Uomini e Donne che nella sua vita fuori dal programma. L'estate, con il suo clima caldo e romantico, sembra aver risvegliato nuove emozioni nel cuore della dama turinese. Resta da vedere se questa volta troverà finalmente la felicità tanto desiderata.